Da un anno a questa parte, ormai, assistiamo con dolore alle violenze che insanguino il Myanmar. Faccio il mio appello dei Vescovi birmani, affinché la comunità internazionale si adoperi per la riconciliazione tra le parti interessate. Non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte di fronte alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle. Chiediamo a Dio nella preghiera la consolazione per quella popolazione martoriata. A Lui affidiamo gli sforzi di pace.